Buona giornata dalla redazione del Corriere di Sciacca. Oggi è venerdì 24 febbraio. Prima riunione alla Regione dell'Osservatorio per il Trasporto Aereo, l'organismo voluto dal Presidente Renato Schifani per monitorare il traffico aereo da e per la Sicilia, soprattutto a contrastare l'aumento esorbitante delle tariffe, specialmente nei periodi di alta stagione. C'erano i rappresentanti degli aeroporti siciliani. L'obiettivo, ha detto l'assessore Aricò, è farli interagire costituendo una rete aeroportuale. Terme di Sciacca per le associazioni. Ora basta e Sciacca Terme rinasce. Occorre guardare oltre e valutare altre possibili strade per riqualificare le strutture termali e affidarle in gestione. Un'iniziativa presentata alla città, che scaturisce dalla mancata ammissione ai fondi del PNRR nell'ambito del bando di cassa, depositi e prestiti. Il piano delle due associazioni è quello di individuare la possibilità di un frazionamento delle gestioni dei vari compendi immobiliari produttivi. Carnevale di Sciacca, firmato dal Sindaco Fabio Termi, nell'atto di indirizzo per l'affidamento dell'organizzazione, della realizzazione, della gestione e della promozione della manifestazione. Sarà il primo vero carnevale organizzato da un privato che avrà parecchi compiti e parecchie responsabilità. Il comune di Sciacca, infatti, così come previsto nell'atto di indirizzo e nel bando successivo, è sollevato da ogni onera e responsabilità civile e penale in ordine all'organizzazione e gestione dell'evento, che sarà totalmente e unicamente a carico della ditta affidataria. È fissata per lunedì 27 febbraio prossimo l'Assemblea dei Soci dell'Azienda Idrica Comune Agrigentiri per nominare il nuovo Consiglio di amministrazione. Ci sarebbe la volontà di tutti di superare la fase del commissariamento e ricostituire l'organo esecutivo dichiarato decaduto lo scorso 7 febbraio. Il punto della nomina del nuovo CDA è l'ordine del giorno, ma non è detto che per quella data si raggiunga l'intesa sui nomi che già cominciano a circolare. Nei comuni della Valle del Belli c'è un calendario unico degli eventi culturali di promozione del turismo dell'Unione dei Comuni Terre Sicane. Se ne è parlato nel corso di una riunione e sono state poste le basi per questo obiettivo. Il calendario integra e arricchisce quello approntato dalla Fondazione Inicon nell'ambito dell'Anno Colmenfi, Città Italiana del Vino 2023. Sarà allestito presso Curreri Carburante in Viale Sciascia il seggio dove domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 si voterà per le primarie nazionali del Partito Democratico. Dopo la fase dedicata ai circoli, questa volta per scegliere il segretario tra Elislein e Stefano Bonaccini, potranno votare anche i non iscritti al partito versando la quota di 2 euro. La Federazione Provinciale di Agrigento ha previsto 40 seggi in tutto il territorio agrigentino. È tutto per questa edizione, grazie e buona giornata.